Genovese di tonno, inutile aggiungere parole, fatela con me. Iniziamo! Asciugo bene il tonno dopo averlo pulito e lavato e lo taglio a pezzettini. Poi taglio le cipolle e per renderle più delicate e digeribili le metti in acqua tipida, aceto bianco e sale per un'oretta. Spurgate le cipolle metto l'olio in padella, un paio di acciughe sott'olio e quando l'olio sarà molto molto caldo metto il tonno. Dopo un minuto sfumo con il vino bianco ed evaporato il vino tolgo quasi tutto il tonno e lo metto da parte in un piatto. Copro con la pellicola e tengo in frigorifero. Nel fondo di cottura metto le cipolle che ho scolato e sciacquato, poi metto il sale, il pepe, copro e faccio cuocere per almeno due ore. A questo punto salo l'acqua, metto a cuocere la pasta, passo poi le cipolle in una padella, metto il tonno, trasferisco la pasta al dente, faccio saltare e mescolo, poi spengo e metto un giro d'olio, il pepe. Ultima mescolata ed eccola qui, che spettacolo! Buon appetito! Pasta, ceci e cozze. E che ne parliamo a fare? Fatela con me. Iniziamo! Dopo aver pulito e sciacquato le cozze, le metto in una padella capiente già molto calda, copro e le faccio aprire. Dopo un paio di minuti inizio a togliere le cozze aperte e le altre man mano che si aprono. Filtro il loro liquido, sguscio gran parte delle cozze e a questo punto metto l'olio in una padella alta. Aggiungo l'aglio, una volta dorato l'aglio metto il peperoncino, subito i ceci, il liquido delle cozze, allungo con un po' d'acqua e faccio cuocere a fiamma alta per 15 minuti. Dopo 15 minuti frullo 4-5 cucchiai di ceci ed unisco agli altri ceci la crema ottenuta. Metto la pasta e faccio cuocere, poi un minuto prima della fine della cottura spengo, assaggio ed eventualmente aggiungo il sale. Metto le cozze, il prezzemolo, mescolo e faccio riposare e finire di cuocere per 4-5 minuti a fiamma spenta. Poi metto un filo d'olio ed eccola qui. Che bontà! Buon appetito! Pasta, gamberi, olive e pomodorini gialli. Bene innamorerete, facciamola insieme. Iniziamo! Pulisco i gamberetti staccando teste e carapaci che metto da parte, poi tolgo l'intestino incidendo sul dorso, sciacquo i gamberetti, le teste di carapaci e faccio una bisca mettendo l'olio in padella, aglio, sedano e carota a rosolare. Dopo 2 minuti metto le teste di carapaci, schiaccio, poi metto il sale, sfumo con la vodka ed evaporato l'alcol metto il ghiaccio così grazie allo shock termico teste e carapaci rilasceranno ancora di più il loro sapore. Sciolto il ghiaccio metto il doppio concentrato di pomodoro, l'acqua e faccio bollire per almeno 30 minuti, poi filtro e metto da parte. Ora, olio in padella, aglio, dorato l'aglio metto il peperoncino, subito i pomodorini, pizzico di sale e dopo 2-3 minuti metto qualche mestolo di bisque, le olive snocciolate, copro e faccio cuocere per 15 minuti. A questo punto salo l'acqua, metto a cuocere la pasta, poi la trasferisco in padella 2 minuti prima della fine della cottura, aggiungo un po' di bisque e faccio insaporire e finire di cuocere. Quando sarà al dente spengo e metto i gamberetti, il prezzemolo ed eccola qui. Buon appetito! Pasta patate e vongole, senza che vi dico nulla, godetevi questa ricetta. Iniziamo! Per prima cosa taglio le patate a cubetti molto molto piccoli, poi taglio l'aglio, la cipolla, metto l'olio in pentola, l'aglio, la cipolla ed i gambetti di prezzemolo e quando l'olio sarà caldo metto le vongole. Copro e dopo 2 minuti inizio a togliere quelle aperte e quelle che man mano si aprono. Una volta tolte tutte tolgo anche i gambetti di prezzemolo, metto le patate, aggiungo il doppio concentrato di pomodoro, l'acqua bollente e faccio cuocere per 20 minuti a fiamma alta. Poi metto la pasta, aggiungo un po' di sale ed un minuto prima della fine della cottura della pasta spengo e metto le vongole sgusciate, il prezzemolo, un po' di peperoncino, mescolo e faccio riposare e finire di cuocere a fiamma spenta per 2-3 minuti. Poi nei piatti un filo d'olio, ancora prezzemolo e guardate qua, buon appetito! Spaghetti con le cozze, ma quanto sono buoni, facciamoli insieme! Iniziamo! In una padella capienta e già molto calda metto le cozze, copro e dopo un paio di minuti man mano che si aprono le tolgo. Poi filtro con un collino il loro liquido, sguscio una buona parte delle cozze, salo l'acqua, metto a cuocere la pasta, poi metto l'olio in padella, aglio, quando sarà dorato metto il peperoncino, subito gran parte del liquido delle cozze, trasferisco la pasta 2-3 minuti prima della fine della cottura e faccio finire di cuocere aggiungendo all'occorrenza altro liquido delle cozze o acqua di cottura della pasta. Una volta al dente spengo e metto le cozze sgusciate, prezzemolo fresco, filo d'olio e guardate qua, che cremina! Sono deliziosi! Buon appetito! Spaghetti con le telline, quanti ricordi di giornate passate al mare! Facciamoli insieme! Iniziamo! In una padella capiente già molto calda metto le telline, copro e le faccio aprire, ci vorranno 3-4 minuti, poi filtro con un collino il loro liquido, salo l'acqua, metto a cuocere la pasta, nel frattempo sgusciano a buona parte delle telline, poi metto l'olio in padella, l'aglio e quando sarà dorato metto il peperoncino, subito il liquido delle telline, trasferisco la pasta 2-3 minuti prima della fine della cottura e faccio finire di cuocere aggiungendo altro liquido delle telline all'occorrenza. Una volta al dente tolgo gli spicchietti d'aglio, spengo e metto le telline sgusciate, prezzemolo fresco, filo d'olio e guardate qua! Mettiamoci anche qualche tellina col guscio, e che delizia! Buon appetito! Spaghetti, polpo e limone! Dopo aver pulito il polpo lo sciacquo e lo faccio bollire per 40 minuti, nel frattempo trito aglio e prezzemolo, spremo i limoni, una volta cotto tolgo il polpo e lo taglio ai pezzetti, poi filtro la sua acqua e la rimetto a bollire, nel frattempo nel bicchiere del mini-peamer metto l'olio, il prezzemolo, il peperoncino, acqua del polpo, qualche pezzetto di polpo e frullo. Ora che bolle salo l'acqua, metto a cuocere gli spaghetti, nel frattempo olio in padella, aglio, gambetti di prezzemolo, poi metto il polpo a pezzetti, dopo qualche minuto aggiungo il succo di limone, trasferisco la pasta in padella, mescolo e faccio saltare aggiungendo acqua del polpo all'occorrenza. A questo punto metto la cremina fatta in precedenza, mescolo ancora, poi spengo, faccio una grattugiata di limone, un po' di prezzemolo ed eccola qui! Che spettacolo! Buon appetito! Pasta mista con polpo e ceci In acqua bollente metto il polpo e lo faccio cuocere per 30 minuti, poi lo taglio a pezzetti, filtro la sua acqua e la riporto sul fuoco a bollore. Ora metto l'olio in padella, l'aglio, i gambetti di prezzemolo e faccio dorare. Ora aggiungo il peperoncino, i ceci precotti, il polpo, spezzetto un'acciuga sott'olio, mescolo e faccio insaporire per qualche istante, poi aggiungo l'acqua del polpo e faccio cuocere a fiamma alta per 20 minuti. Dopo 20 minuti tolgo i gambetti di prezzemolo, metto la pasta e la faccio cuocere aggiungendo all'occorrenza altra acqua bollente del polpo. Quasi a fine cottura assaggio ed eventualmente regolo di sale, poi quando la pasta sarà al dente spengo e metto il prezzemolo, faccio saltare e buon appetito!